Tra le otto case di comunità, di cui tre hub aperte H24 e cinque spoc fruibili H12, che la ASL di Pescara realizzerà con 13 milioni di fondi derivanti dal PNRR, una sorgerà in zona San Silvestro Spiaggia a Pescara. L'area individuata, circa 3.600 m2 in via 8 Marzo, sarà ceduta gratuitamente per 50 anni dal comune all'azienda sanitaria locale. Nel nuovo distretto, aperto H24 con medici, pediatri, infermieri e personale specializzato, i cittadini potranno ricevere servizi sanitari di base e cure primarie, con l'obiettivo di alleggerire la pressione del pronto soccorso del Santo Spirito di Pescara, come spiega il dottor Rossano Di Luzio, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Organizzazione e Cure Territoriali dell'ASL di Pescara. Come si è arrivati a questa casa di comunità che sorgerà a Pescara in zona San Silvestro? Sì, è arrivati alla casa di comunità mediante il decreto ministerial 77 dell'aprile del 2022. Questo decreto prevede i nuovi standard dell'attività sanitaria sul territorio e nei nuovi standard sono previste le case di comunità, gli ospedali di comunità e la centrale operativa territoriale. La casa di comunità che sorgerà appunto a Pescara, in cosa consisterà nello specifico? La casa di comunità è un luogo cardine tra le attività sanitarie e le attività sociali. Il primo attore di questa casa di comunità sarà il medio di famiglia, il pediatra di libera scelta e sarà coaiuato da personale sanitario, ospedaliero o specialistico, summaistico, insieme alle figure dell'infermiere di comunità. Anche questa è una figura molto importante che svilupperà l'assistenza domiciliare al territoriale. La disponibilità di medici di famiglia H24, insieme alla guardia medica naturalmente, e di specialisti all'interno di queste strutture potrebbero permettere un primo approccio alla sanità direttamente in queste strutture, quindi non passare per il pronto soccorso. Quindi diciamo che probabilmente si spera che i codici bianchi e i codici verdi dovrebbero scomparire e i codici verdi ridursi notevolmente. La casa di comunità AB di San Silvestro costerà circa 3.438.000 euro e sarà operativa entro il 2025. Il progetto di fattibilità della ASL è già stato approvato dalle commissioni finanze e gestione del territorio del comune di Pescara e ora passerà al vaglio del consiglio comunale, come spiega Salvatore Di Pino, presidente della commissione finanze. Che tipo di edificio, di struttura sorgerà su quell'area individuata? Una struttura non impattante che avrà un'altezza di tre piani, tre livelli al massimo e quindi seguirà la conformazione delle case e delle strutture adiacenti, per cui non sarà impattante, si svilupperà più che altro in lunghezza. È un'attività che noi abbiamo ritenuto positiva, per cui abbiamo deciso come commissione finanze e urbanistica, abbiamo espresso il parere congiuntamente, di dare un giudizio positivo, perché rappresenta un nuovo centro di assistenza in ambito sanitario, socio-sanitario per la cittadinanza.